Per il suo cittadino a Grosseto è un risultato forse anche eccessivo? Sì, è eccessivo perché credo che dopo il primo tempo siamo ripartiti forse con maggior determinazione. Penso che ci fossimo anche vicini a rischiare anche il pareggio sotto certi aspetti, anche se grandi occasioni ne abbiamo creati, grandi chiedi in porta ne abbiamo fatto. Poi è arrivato l'episodio del rigore e secondo me è stato determinante. Mi piacerebbe vedere, dalla panchina mi sembrava, ho detto che il quarto ruolo mi sembrava non rigore, nettamente non rigore, però mi piacerebbe vedere le immagini, insomma, è stata ammazzata perché dalla ricorsa a livello psicologico che si voleva fare, con tanta fatica sicuramente, questo episodio aveva fatto crollare tutto, tutte le speranze e poi la squadra, da lì ha preso un'altra piega la partita, poi la squadra si è smarita completamente, l'episodio c'è stato in rigore, l'espulsione, secondo me, ripeto, non c'era, però insomma dobbiamo accettare questo verdetto che secondo me è stato determinante in questo episodio, anche se a volte non mi piace soffermarmi, analizzare 90 minuti, analizzare solamente un episodio, però credo che sia stato determinante, purtroppo. Possiamo quantomeno dire, mister, che la sua squadra è stata colpita praticamente nel momento migliore in cui stava producendo il massimo sforzo. Ma sicuramente, però devo anche dire che insomma dopo una squadra che subisce anche il secondo gol, perché non mi è piaciuto proprio l'atteggiamento, insomma, l'atteggiamento è una squadra un po' anche aperta, però noi abbiamo fatto bene questi cinque anni perché abbiamo sempre lottato fino alla fine e mi dispiace che questo non sia successo qui a Grosseto. Grazie mister.